A tutti buonasera, il tempo di domani sarà in gran parte soleggiato e un po' più caldo, ma con passaggi nuvolosi all'est che potrebbero portare ancora rovesci sui rilievi orientali. In serata possibilità di qualche breve temporale anche su Bresciano e Mantovano. Le temperature massime tra 26 e 30 gradi, mentre le minime da 17 a 20 gradi.